Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Cesare Martignan. Per quanto riguarda l'A1 in direzione Bologna, si registrano code per traffico intenso tra Firenze e Pruneta e il Bivio A1 variante di Valico. Code anche tra Monte San Savino e Firenze Sud. Nella variante di Valico segnalati rallentamenti tra località Aglio e Badia sempre in direzione Bologna. In A12 coda a tratti in direzione Genova tra il nodo A12 raccordo Luca Viareggio e il Bivio A12 A15 Parma La Spezia. Provenendo da Livorno coda all'uscita Brugnato. In Fipilì provenendo da Livorno coda all'uscita al viadotto all'Indiano a Firenze. Per la circolazione ferroviaria il treno regionale 3145 Pisa Centrale Firenze Santa Maria Novella viaggia con 27 minuti di ritardo. Arrivo previsto per le 18.22. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio!